cari amici di libero devo farvi una confessione molta gente direi che forse la maggioranza pensa che io sia omofobo mi accusano di non sopportare i gay e tutti questi soliti discorsi che si fanno a proposito delle preferenze sessuali io invece ho molti amici omosessuali e non mi sono mai chiesto quali fossero le loro preferenze sessuali l'ho scoperto così chiacchierando ma io non mi sono mai scandalizzato non provo nessuna repulsione nei confronti degli omosessuali detto questo però devo anche aggiungere un'altra cosa quando io sono nato il l'omosessualità era proibita era fuori legge anche la denominazione degli omosessuali era francamente piuttosto irruenta li chiamavano pederasti li chiamavano invertiti eccetera lentamente però il mondo si è un po evoluto e quindi l'omosessualità è stata tollerata di nascosto tuttavia passano ancora degli anni e l'omosessualità si è imposta e è diventata praticamente una cosa non solo tollerabile ma che non suscita più alcun sentimento negativo d'accordo però adesso negli ultimi tempi l'omosessualità è diventato un orgoglio un orgoglio allora io dico questo va bene va bene anche orgoglio prima però che diventi obbligatori all'omosessualità preferirei morire